www.redigio.it e la storia continua il gioco della palla furono senza dubbio dei politeisti in Maya ma le loro divinità erano fluide, intercambiabili come gli elementi della natura uno stesso dio poteva avere molti aspetti e molteplici sfumature un aspetto questo che colpì molto i missionari europei sempre pronti a vedere dappertutto una sorta di rivelazione primitiva è infatti con un certo entusiasmo che nella sua relazione del Tet Zcoco un certo Pomar nel Cinquecento scriverà che credevano in un dio unico non solo i più prudenti avveduti ma, diceva così, anche la gente comune aggiungendo però che non lo si era mai visto in forma o con un corpo umani ma né in un'altra figura ma né tantomeno aveva tempio alcuno che non gli facevano un sacrificio leggere del codice Vaticano latino 3738 gli stessi ritrovamenti archeologici di città come Kiken Itza, il centro più importante dell'età post-classica Maya qui siamo nel secolo XVI, confermano la visione di un cosmo diviso in due parti contrapposte e complementari In questa splendida città, dalle colonie a forma di serpente, sono state ritrovate varie aree un tempo adibite al gioco della palla, esercizio di grande importanza rituale Nella mentalità Maya, la competizione calcistica ricapitolava e simbolizzava la contrapposizione cosmica degli elementi della natura che dovevano combattersi continuamente Lo stesso essere umano aveva in sé due componenti Nasceva umido dell'essenza delle idee madri acquoso e cedevole Poi, con gli anni i raggi solari lo solidificarono e gli riscaldavano il cuore Ancora oggi, tra le popolazioni Maya, si pensa che l'individuo anziano sia surriscaldato e abbia bisogno ogni tanto di ubriacarsi di pulque che è una bevanda nazionale ottenuta dalla fermentazione del succo dell'agave alla quale si riconosce un potere rinfrescante Il periodo classico Maya tra il III e il IX secolo è contraddistinto soprattutto nell'area messicana guatemalteca dalla fondazione ai numerosi centri abitati con funzioni politiche e religiosi come Copan, Uxmal, Kamina Liu Yu per non citarne che alcuni e dalla fioritura del complesso sistema di scrittura della matematica, dell'astronomia, discipline che nella cultura Maya appartenevano quasi esclusivamente alla sfera religiosa e ci sono degli anni dalle gare a differenza dei loro antenati nomadi che sacrilizzavano i luoghi nei quali si spostavano i sedentari agricoltori Maya ponevano estrema attenzione al tempo ogni cosa, ogni raccolto ogni incamerimento di beni per avere successo deve avvenire in un dato momento in una data stagione allora bisogna dominare il tempo bisogna conoscerlo, numerarlo elaborare un calendario nel quale dei e uomini convivevano con regolarità da qui la precisione dei calendari Maya che combinano vari cicli temporali di diversa grandezza dei quali i principali erano due uno di 365 giorni scandiva le attività lavorative e le feste religiose mentre l'altro 260 giorni era di uso principalmente divinatorio entrambi scorrivano in maniera parallela e indipendente ma il computo del periodo al termine del quale essi torneranno a coincidere aveva grande importanza e dava origine a un ciclo più grande immaginiamo due dati giorni delle due cicli quello di 365 e quello di 260 cominciamo a contare da ora lo scorre del tempo perché le due date si ritrovino nuovamente a coincidere dovranno trascorrere secondo i calendari Maya 18.980 giorni e questo periodo equivale a 52 cicli di 365 e 73 di 260 giorni questo era il secolo mesoamericano che era festeggiato con il rito della legatura degli anni quest'epoca ogni fuoco veniva spento e si attendeva che le stelle giungessero in una data posizione per conoscere il momento esatto del sacrificio umano si accendeva una fiamma sul petto di uno dei tanti prigionieri destinati a essere immolati alla prima fiammella un'esplosione di gioia percorreva i fedeli ormai certi che il regno del quinto sole il mondo in cui vivevano sarebbe continuato al periodo classico di massimo spendore frisce seguito anche una crisi che vide l'abbandono dei centri più importanti ritornati ben presto sotto il fitto manto della foresta pluviale in questo periodo riconosciuto come post classico che va dal novecento al mille cinquecento circa dopo cristo gli uomini si spostarono nelle regioni più a nord nella penisola dello yucatan mentre in europa si rafforzavano le dinastie e si delineavano le nazioni tra i maia serpeggia l'instabilità politica e si registrano un forte militarismo e un significativo spostamento delle popolazioni ma la storia non è finita qui della guerra fiorita del divoratore degli uomini e della natura da domare ne parleremo nella prossima puntata www.redigio.it e la storia continua www.redigio.it www.redigio.it Ciao